Non c'è sosta nel lavoro della Fiorentina che è tornata in campo anche il primo gennaio del 2010, primo allenamento dunque del nuovo anno solare e lavoro atletico per il gruppo capacità aerobica con corsa sul campo all'interno del Franchi. Qualche curioso guarda al di là delle sbarre dello stadio ma sono in tanti comunque a voler manifestare la loro vicinanza alla squadra anche in questo giorno di festa. Domani di nuovo una doppia seduta divisa così alla mattina la parte atletica, nel pomeriggio invece amichevole contro il Cerbaia. Si gioca dalle 15, il calcio d'inizio è fissato all'interno dello stadio Franchi ed è aperta per l'occasione la maratona per tutti i tifosi che volessero seguire la partita da vicino. Grazie. Grazie.